Neon Genesis Evangelion, The End of Evangelion, ovvero sia la fine di Evangelion, quella fine che non c'era stata, quella fine che c'era stata ma in una maniera diversa da come doveva essere nella serie di animazione, nella serie di 26 puntate, e che qui, in questo lungometraggio, dopo il finale che già c'era stato, quel finale discusso, molto tormentato e discutibile probabilmente, che aveva lasciato i fan interdetti in realtà con il viaggio, lo stream of conscious continuo del personaggio di Shinji Ikari, praticamente un finale tutto quanto nella sua testa per certi versi, qui abbiamo invece il finale vero, quello che doveva essere il finale, quello che è stato possibile vedere con le anticipazioni in realtà delle puntate finali all'epoca della serie televisiva, ma che non c'erano i fondi per farlo, che non è stato possibile farlo per i tempi stringenti, che alla fine dei conti non si è fatta. Non si è fatta questa fine, ma si è fatta un'altra fine, una fine che io ho apprezzato, ma che non è stata abbastanza. Non è stata abbastanza quel finale, e quindi si è andati avanti. Si è andata avanti, e fondamentalmente un mese circa dopo la fine della serie televisiva, la storia è andata avanti, si è scelto di farla andare avanti, e si è ottenuto che cosa? Si è ottenuto due lungometraggi, Death and Rebirth e The End of Evangelion, appunto. Ho già parlato di Death and Rebirth in realtà, questo film, che in realtà è la prima parte di un film, e questo, The End, che in realtà è la seconda parte, che era stata abbozzata in Rebirth. Quel progetto cinematografico in realtà, per certi versi, così strano, così particolare, quel lungometraggio che ripercorriva la storia di Evangelion, con anche qualche puntata, qualche spezzone di puntata, che si sarebbe in realtà poi rivista in edizione a un video, nel director's cut, delle puntate, e che dava la possibilità allo spettatore già esperto di Evangelion di risoffermarsi sui punti forse fondamentali di questa storia, e dava la possibilità allo spettatore nuovo, in realtà, di introdursi in questo mondo. Questo mondo, per quanto mi riguarda, assolutamente affascinante. Questo mondo, che, come ho detto, viene ripercorso nella frazione Death, e che iniziava ad avere la sua conclusione in Rebirth. I primi venti minuti del film di End of Evangelion, infatti, corrispondono quasi completamente a Rebirth, la seconda parte, appunto, di Death and Rebirth. Ma era talmente tanto il materiale che la storia doveva concludersi in maniera gigantesca. In maniera gigantesca si è avuto che cosa? Si è avuto, quindi, un film di quasi un'ora e mezza. Un lungometraggio di animazione di un'ora e mezza, che in realtà, di fatto, sono due puntate del telefilm, fondamentalmente, della serie di animazione, due puntate di durata doppia, in realtà, diciamo già la chiave tondo, quindi, in realtà, è come se fossero quattro, per certi versi, che riesce contemporaneamente a cambiare tutto e a essere perfettamente coerente, in realtà, con il mod che si era visto nel finale televisivo. Si è partiti, però, in questo di End, con l'azione. Si è partiti con l'attacco. L'attacco alla stazione della Nerve da parte della Sele, che ha definitivamente deciso di intraprendere il progetto di perfezionamento dell'uomo. Quel progetto di perfezionamento dell'uomo, che era stato soltanto suggerito, bisbigliato, in qualche modo, nella serie anime, e che non c'era stato mostrato realmente nel finale televisivo e che qui, invece, si mostra in tutto il suo splendore. Il progetto per il perfezionamento dell'uomo, ovvero sia il desiderio di unire tutte quante le entità umane in un unico grande essere, per riuscire a superare le barriere della nostra anima, il nostro altifield, e riuscire, quindi, a essere perfetti, felici e elevarci al massimo delle nostre possibilità. E quindi questo è il progetto del perfezionamento dell'uomo. E' questo il progetto della Sele, che, con le forze militari, dà l'attacco, poco dopo, la sconfitta dell'ultimo angelo, apparentemente, il 17esimo, il buon Kaoru Nagisa, che così poco era stato nella vita di Shinji Ikari, il protagonista della storia di Evangelion, ma così tanto l'aveva sconvolto. E, difatti, è, a seguito della morte di Kaoru, un personaggio assolutamente sconvolto, quello di Shinji. Shinji, un personaggio assolutamente sconvolto, che non riesce ad avere il suo... non riesce a trovare sostegno, in qualche modo, dagli altri, che sono, in realtà, l'unica forza che ha Shinji. E' un personaggio assolutamente drammatico, insicuro, debole, che si mette in condizione di fare quello che gli altri dicono, perché da solo non ce la farebbe, perché viene ferito, praticamente, da qualsiasi cosa sia estranea a se stesso, e al contempo stesso viene ferito da qualsiasi cosa sia interna a se stesso. E' veramente drammatico il personaggio di Shinji, e, difatti, è drammatica la situazione iniziale, il suo turbamento. Non riesce a relazionarsi col prossimo, non riesce a rendersi, in qualche modo, indipendente e forte, anche nei momenti in cui viene assolutamente richiesto che lui lo sia forte. Un personaggio drammatico che, praticamente, nelle prime immagini di questa nuova versione del fine di Evangelion, con il gesto della masturbazione davanti al corpo, mezzo catatonico, fondamentalmente, di Asuka, mostra tutto il suo tormento interiore, mostra tutto il disagio, e, con queste immagini, capiamo che quello che stiamo vedendo è qualcosa di ancora diverso da quello che già abbiamo visto nella serie, perché c'è molto più tormento. Il livello di tormento che si riesce a scorgere con il personaggio di Shinji, essenzialmente, e che si riesce a percepire in questo film, in questo lungometraggio d'animazione, è qualcosa di diverso e di superiore, di maggiore, rispetto al tormento che possiamo aver visto, secondo me, nel finale della serie televisiva. E' un tormento che, apparentemente, non ha pace, e anche durante l'attacco, anche quando le persone attorno a lui muoiono, prima fra tutte fondamentalmente Misato, quel personaggio meraviglioso che dà la vita, di fatti, fondamentalmente per Shinji, e che, per certi versi, era la figura genitoriale che Shinji non ha avuta dal padre, Gendo, ben che meno della Maddo, ovviamente, essendo mancata quando era piccolo, è tutto drammatico, è tutto drammatico e è un personaggio, quello di Shinji, impietrito dal dramma che sta vivendo, incapace di reagire, e di anche salvare le persone a cui, in qualche modo, più o meno in maniera positiva, più o meno in maniera sana, tiene. E' nella prima parte del finale, appunto, di The End, nella frazione Air, Love is Destructive, la puntata 25, fondamentalmente, che c'è l'attacco alla Nerve, c'è la morte di tante persone, c'è l'inizio del progetto di perfezionamento dell'uomo. Inizio del progetto di perfezionamento, anche ad opera, però, non soltanto della Sele, ma, questa associazione misteriosa, ma anche ad opera di Gendo, il padre di Shinji, che decide di andare avanti col suo piano visto nella serie, ovvero quella di innestare Adam, che ha innestato in se stesso, nel corpo, direi, incarnazione in qualche modo Lilith, e quindi cominciare il third impact, anche egli, e il suo progetto di perfezionamento dell'uomo. Accade l'attacco, accade l'attacco da parte di una serie di forze militari che vengono, fortunatamente, bloccate da una ristabilitasi, in qualche modo ripresasi, e assolutamente vorace, capace di reagire, Asuka. Asuka che però si ritroverà, poi, dopo aver sconfitto le forze militari, ad affrontare dei nemici troppo forti per lei, ovvero una serie di nove Evangelion, pienamente artificiali, che la fanno a pezzi, letteralmente fanno a pezzi il suo Evangelion, e la mettono completamente in difficoltà. Sarà, alla fine, per cercare in qualche modo di reagire, di salvare Asuka, che il buon Shinji entrerà nell'Eva 01. Entrerà nell'Eva 01, troppo tardi però. Asuka è stata completamente sconfitta, e allora c'è quel grido, quel grido che io ricordo fin dalla prima volta che vidi il finale di The End of Evangelion. All'epoca, fra l'altro, nella versione DVD, era in una qualità molto inferiore rispetto a quella che ho visto adesso, invece che è la qualità Blu-ray. E ricordo quell'urlo che non era stato, se non ricordo male, doppiato, quell'urlo assolutamente isterico che palesa tutto l'infinito disagio che c'è in questo film e che c'è nello spirito, appunto, di Shinji. È un film, questo, che si stacca dalla serie per questa serietà all'ennesima potenza di quello che stai vedendo, per l'importanza all'ennesima potenza di quello che stai vedendo. Per certi versi, quando lo spettatore guarda questo film, vede delle scene e del location, soprattutto, che gli sembra di aver già visto, che conosce magari anche molto bene, ma che apprezza adesso in un'altra angolazione. Difatti, ad esempio, basti pensare al sangue. Il sangue che in realtà era minimo, fondamentalmente, nella serie TV e che invece è molto presente in questo film, soprattutto quando magari è il sangue di una persona che ha, come ad esempio, quello di Misato. È questo film, quindi, uno step superiore rispetto, secondo me, alla serie televisiva per tanti versi ed è, ovviamente, con il proprio conto di questa cosa, molto più impegnativa, se vogliamo, la sua visione. Ma c'è poi l'intermezzo, perché anche questo film, così come Death and Rebirth, ha un intermezzo. Anche questo film ha un intermezzo, un intermezzo che dura meno di quello di Death and Rebirth, in realtà sono titoli di coda che probabilmente potrebbero aver lasciato perplesso un pochettino il pubblico all'epoca, perché si vedeva un episodio apparentemente di nuovo a terminare, ma anche di nuovo si dovesse aspettare un altro lungometraggio, ma invece no, perché la fine di questo lungometraggio, in realtà, arriva subito dopo. Arriva la puntata 26, Eir. Arriva la puntata in cui si arriva, finalmente, alla fine di Evangelion. La puntata 26, A te, Eir, era Eir, Love is Destructive, la 25, e la 26 è A te, il mio animo sincero. I need you, infine. In questa puntata 26, abbiamo in realtà molti pochi elementi, perché la storia in realtà è estremamente ridotta, ma è tantissimo quello che ci viene mostrato. È un tripudio visivo di elevazione a stato semidivino, fondamentalmente, dell'unità 0-1 e dell'essenza di Shinji, quindi. Allo stesso modo, è un tripudio visivo nella elevazione a semidivinità e all'inizio, appunto, del third impact e alla trasformazione della forma fisica di tutti gli esseri umani da parte di Rey. Rey, questa creatura che in realtà è oggetto di apparizioni a più non posso, che in realtà sono a tuttora praticamente inspiegabili, fondamentalmente. Questo essere che nasconde così tanto, questo essere che è sempre stato, in qualche modo, la bambola di Gendicari e che, infine, decide di ribellarsi, perché lei non è una bambola. E quindi, questa Rey, finalmente, riesce a ribellarsi al suo creatore artefice, padrone, quantomeno. Abbiamo quindi che cosa? Abbiamo quindi la costituzione di una creatura semidivina che, in qualche modo, porta che cosa? Porta sì al processo di perfezionamento dell'uomo, tramite l'elevazione a status semidivino di Shinji Ikari. Ma, contrariamente a quello che pensava la Sele, il processo di perfezionamento da parte di Rey richiede che Shinji lo voglia. Rey, infatti, mette di fronte ad una scelta, Shinji. Lo mette di fronte alla possibilità non soltanto di dare la morte a tutti gli esseri viventi, quindi di tutti gli esseri umani. E quindi, andando avanti nel processo che era in realtà comune a tutte le orchestrazioni delle varie forze in questa serie animata, nella serie animata. Gli dà la possibilità, però, Rey di scegliere. Scegliere che cosa sarà il futuro. E quindi c'è uno stream of conscious. E quindi comincia in realtà una di quelle cose che a me piace tantissimo che è lo stream of conscious nella mente di Shinji. Una stream of conscious che però supera ancora di più se vogliamo i limiti tecnici, immagino, che ho nella serie televisiva, e che sfonda in realtà anche la quarta parete per certi versi. Perché? Perché abbiamo, nel più intimo di Shinji, abbiamo delle manifestazioni visive che corrispondono in realtà al mondo vero, al nostro mondo. Infatti, è stato scelto di utilizzare delle immagini del mondo vero, ognuna in qualche modo forse ricercate, dense di significato, e che, allo stesso tempo, è anche un qualcosa di estremamente legato alla saga di Evangelion. Infatti, addirittura, sono state integrate delle immagini provenienti dal pubblico che era al cinema, quando questi andati a vedere il lungometraggio precedente di Evangelion, ovvero Death and Reverse. Quindi, diciamo, in qualche modo, uno sfondamento infinito della quarta parete, appunto. ma a parte il tecnicismo visivo, comunque, alla fine, il personaggio di Shinji così tormentato, ma che il mondo, l'universo, gli chiede così tanto e così in difficoltà e al tempo stesso così potente e così capace, in uno stream of consciousness infinito in cui, alla fine, in qualche modo, arriva alle stesse realizzazioni che in realtà erano le realizzazioni che il personaggio di Shinji ha avuto in qualche modo nel finale della serie animata, che cosa fa? Shinji, il buon Shinji, alla fine decide di interrompere il perfezionamento dell'uomo. Shinji decide che, alla fine, malgrado il tormento e tutto quanto, decide che l'uomo, con tutti i suoi limiti, i suoi difetti e, soprattutto, lui stesso con il fatto che comunque verrà ferito dagli altri per la distanza che c'è fra le persone, decide che comunque ne vale la pena. Vale la pena che tutti quanti noi possiamo essere individui distinti e quindi, nonostante il fatto che lui sia destinato a essere sempre in qualche modo ferito dagli altri per distanza, appunto, interpersonale tra noi tutti, decide di interrompere questo processo di perfezionamento che unisce tutti quanti gli esseri e quindi tutto si interrompe. Tutto si interrompe, gli Eva artificiali, così come Eva 01, finiscono nello spazio, dispersi, disgregarsi, fondamentalmente, ad annichidirsi e alla fine se le personalità riusciranno a essere abbastanza integre, se gli uomini riusciranno a trovare la forza dentro di sé, dice il personaggio di rei, l'immensa rei, la colossale rei più grande praticamente del pianeta stesso che abbracciava in qualche modo, che cingeva con le mani l'Eva 01 elevato a status divino, alla fine anche lei si disgrega, si disgrega e anche lei come praticamente tutto ciò che è rimasto del mondo si non disintegra ma va in rovina in qualche modo e torna sulla terra. Torna sulla terra e abbiamo che cosa? Alla fine abbiamo quello che in realtà è per certi versi un punto di arrivo e per certi versi forse non lo è. Per forza un punto di arrivo ma una nuova partenza, ovvero abbiamo un mare rosso abbiamo un mare rosso abbiamo delle onde abbiamo uno Shinji che finalmente si è ricostituito in qualche modo e al suo fianco abbiamo una Asuka una Asuka ferita, traumatizzata dalle brutte esperienze che ci sono state durante questo film e in qualche modo loro sono lì e quindi le essenze e le differenze fra le persone sono tornate. è con una scena assolutamente famosa che mi ricordo mi aveva lasciato estremamente perplesso la prima volta che la vidi tanti anni fa e che ancora adesso credo che sia oggetto di discussione come in realtà praticamente tutto quanto ciò che concerne Evangelion è oggetto di discussione che termina questo film ovvero sia con Shinji che fa quasi per strangolare Asuka la quale però allunga la mano gli accarezza il volto e a quel punto Shinji si ferma e quando Eddie si ferma e comincia a piangere lei subito prima della fine del film subito prima che si interrompa nei fotogrammi fa che schifo che schifo no che meraviglia che meraviglia di film che meraviglia di film che meraviglia Evangelion che meraviglia questo film di End of Evangelion si potrebbe parlare per ore di questo film io ovviamente come faccio di solito quando faccio questi miei sproloqui vado a spulciarmi quantomeno un pochettino la cara Wikipedia per cercare di ricostruire magari alcune cose che mi sono perso oppure magari cerco qualche curiosità ci sono stato qualcosa come un'ora soltanto su questo film senza neanche approfondire in maniera così infinita senza andare a sviscerare ogni singolo particolare che i link di Wikipedia i reindirizzamenti di Wikipedia mi venivano a disposizione però ce ne sarebbe da parlare per ore ma anche soltanto per l'approccio visivo così straordinario che secondo me ricercato la scelta dei fotogrammi soprattutto in alcuni casi con i montaggi quelli forse nati dello stream of conscious è qualcosa di affascinante oppure la colonna sonora colonna sonora in cui per quanto mi riguarda spicca la colonna sonora la traccia audio com su Stuart Todd che è assolutamente affascinante e in realtà tutto di Evangelion può essere oggetto di discussione è veramente qualcosa di unico secondo me Evangelion visivamente e concettualmente questo film che in realtà è pieno di significati è pieno di significati che per certi versi è l'anima di Iliaki An appunto il suo ideatore che ha riversato in quest'opera e anche a sto giro in questo film tutto il suo tormento interiore tutto il suo tormento interiore che davvero nasconde infinite sfaccettatori infinite sfaccettatori che forse soprattutto col personaggio di Shinji in qualche modo lo spettatore ha modo di cogliere se vogliamo ma in realtà c'è molto di più questo film c'è chi vi vede e anzi addirittura lo stesso anno ha affermato che in questo film in qualche modo si può vedere anche una critica che cosa una critica a se stesso e a quelli come lui c'è stata una interpretazione di questo film e in generale della serie come una critica addirittura pensate al mondo degli otaku il mondo degli appassionati dell'animazione giapponese indipendentemente dal fatto che vi lavorino o meno per la tendenza magari di queste persone a richiudersi un pochettino in un mondo fittizio appunto per le difficoltà del mondo reale questo mondo reale così devastante per alcune persone e così devastante per il personaggio di Shinji ma ci sono pieni un sacco di interpretazioni di questo film quindi ha davvero poco senso limitarsi a citarne qualcuna secondo me perché un'opera del genere secondo me riesce a superare chi l'ha creata per certi versi e sebbene io sappia comunque che in realtà più l'opera è complessa più in realtà è frutto di rimaneggiamenti di revisioni questo stesso film in realtà così come il progetto di Epitano Rebirth in generale o il finale della serie televisiva in realtà doveva essere qualcosa di diverso addirittura questo doveva essere e questo finale in realtà il remake ipotetico comunque un progetto un pochettino slegato da quella che era la storia della serie televisiva ci sono state alcune parti che non sono mai state introdotte in realtà in questo film di animazione che sarebbero dovute essere prodotte e si sarebbero dovute introdurre soprattutto nei momenti dello stream of conscious come ad esempio nei momenti dello stream of conscious con le immagini del mondo reale c'è veramente un'infinità di cose da dire questo progetto è assolutamente affascinante e in estrema sintesi io davvero non posso fare altro che consigliarvi questo film The End of Evangelion è stato assolutamente appassionante per me viverlo all'epoca riviverlo ancora adesso adesso ancora di più perché è una di quelle cose che ogni volta che la vedi secondo me ne godi sempre di più se ti piace ovviamente perché se non ti piace non ce n'è e non posso davvero fare altro che consigliarvela è stata questa forse la fine migliore per Evangelion è stata questa forse la fine migliore per Evangelion rispetto al finale della serie televisiva ma questo film che è la fine non è stato davvero la fine questo film è stato forse la seconda fine e la storia di Evangelion in realtà che si presta così facilmente alla fine all'inizio continuamente in realtà non finisce e non finisce con questo film ma qualora lo spettatore decidesse di fermarsi con questo film con tutte le risposte che ha ricevuto nel corso di questa pellicola di questo film di animazione e con tutte le domande che comunque in qualche modo gli rimangono al termine della visione credo che possa ritenersi assolutamente soddisfatto lo spettatore e quindi non posso fare altro comunque a tutto tondo che dirvi di Ender Evangelion è un gran bel film recuperatevelo assolutamente che decidiate di continuare la saga di Evangelion o meno sicuramente questa è un'esperienza da vivere grazie a tutti grazie a tutti